C'è fermento in federazione dopo l'opposizione del governo al decreto a crescita per il calcio. La politica ha voltato le spalle al sistema e molti invocano al populismo sfrenato della maggioranza. Fatto sta che la politica probabilmente ha fatto una scelta eccessiva, ma al tempo stesso ha messo davanti agli occhi di tutti le problematiche finora nascoste del sistema calcio. Finora cullatosi tra spot elettorali e un indebitamento massiccio. Gravina ieri ha convocato d'urgenza i presidenti della Serie A. Il numero uno del sistema calcio, dopo anni di promesse, è sempre intenzionato a far sul serio in tema di riforme, valutando una trasformazione complessa dei campionati. Non entriamo ancora nel merito della possibile soluzione proposta che dovrebbe diventare effettiva nel 2030. La Serie A e la Serie B passerebbero da 20 a 18 formazioni, da 60 a 18 invece la Lega Pro. Queste le indiscrezioni che, se confermate, aprirebbero a una svolta. Di conseguenza andrebbe riformato l'asselto dei dilettanti con il ripristino, come paventato in passato, del cosiddetto semiprofessionismo ex Serie C2. Il punto è che ieri in FIGC si è mostrata la netta frattura tra grandi e piccoli club, con i primi ovviamente interessati alla trasformazione del sistema. Il Summit però aveva un solo obiettivo, compattare tutti verso l'11 marzo, giorno in cui si voterà per l'abolizione del diritto di veto in seno alle singole leghe. In sostanza verrà abolita l'unica norma che ogni singola Lega aveva modo di utilizzare per tutelare i propri interessi, ma che al tempo stesso aveva limitato il sistema, in particolare la Serie D, che nel calcio ha un peso enorme in fase di votazione. In passato il diritto di veto è servito per tutelare gli interessi delle più piccole, ma con gli anni e soprattutto con lo stralipante riforme dei campionati si è dato maggiore attenzione a peso elettorale che è l'effettivo beneficio dell'intero sistema. Grazie a tutti.